Vi ricordate il crollo del ponte Morandi? Si poteva prevedere prima che crollasse quando sarebbe crollato? Beh, la prima notizia che vi voglio dire è che per far questo esistono moltissimi metodi. Ma poi, una volta crollato, come hanno fatto gli ingegneri a trasformare uno schizzo, un disegno di Renzo Piano, in una nuova struttura vera e propria? Ma dove agiscono gli ingegneri? È chiaro che, da una parte, per capire quanto male stava messo questo ponte non avremmo mai potuto caricarlo fino alla sua distruzione solo allo scopo di scoprire quando sarebbe crollato. D'altra parte, per ricostruirlo non avremmo mai potuto costruire, ricostruire centinaia di volte un nuovo ponte solo per arrivare al soddisfacimento delle esigenze di bellezza e di solidità desiderate. Quindi gli ingegneri non agiscono direttamente sulle cose. Sarebbe poco conveniente. Essi agiscono sulle idee. Ma in un mondo di parolai, che parlano di tutto senza capire veramente quello di cui parlano, l'ingegnere si sente in difficoltà. Perché egli ha, è vero, l'esigenza di parlare di idee, ma di idee che si riferiscono ad una realtà, ad una realtà magari complicatissima, con cavi, sassi, cemento, metallo. E quindi questa realtà tanto complicata deve, per forza di cose, poter essere semplificata. E tale semplificazione avviene con i cosiddetti modelli matematici, con i quali gli ingegneri prevedono il futuro delle strutture già costruite e progettano quello delle strutture da inventare. E quindi, da una parte, possiamo capire quanto deve essere grosso quel cavo di un certo ponte per reggere a tutte le sollecitazioni del caso. Dall'altra, nessuno garantisce la validità delle semplificazioni che si fanno. Ed è per questo che esistono, purtroppo, anche i fallimenti della scienza. Il processo di semplificazione è infatti molto delicato, perché pregiudica la possibilità di prevedere il futuro dei modelli utilizzati. Poca semplificazione porta a modelli troppo complicati, con cui è impossibile fare calcoli. Troppa semplificazione porta a fare previsioni, ma che poi non hanno alcuna relazione con la realtà. E allora, come riesco a prevedere se un corpo, semplificato o quanto volete, come questo, si rompe? L'altra notizia che vi voglio dare è che ci sono ipotesi diverse per ogni materiale e tutte queste ipotesi si sono ancora tutte molto da capire. Per esempio, come posso prevedere l'evoluzione di una rottura? Come cambia tale evoluzione se cambio le forze esterne? Vediamo qui che applicando uno stato di tensione orizzontale, la cricca si concentra nel punto di spigolo ed evolve in questo modo. Ma ancora non è chiaro quanto devo caricare per ogni materiale di cui si immagina che la struttura debba essere composta per avere l'iniziazione di quella cricca. E poi, come si evolve questa cricca se cambio le forze esterne in un taglio, come in quest'altro caso, i risultati possono essere davvero poco intuitivi. E' questo il lavoro del ricercatore nell'ingegneria. Cercare di migliorare le possibili semplificazioni degli oggetti reali per calcolare le strutture presenti e per progettare quelle del futuro. E' usando questi metodi di semplificazione che si capisce fino a quando una struttura rimane integra per capirne il tempo di vita, per esempio quello del Ponte Morandi. Ed è usando questi metodi che avremmo potuto capire quando sarebbe stata l'ora di ricostruirlo oppure di manutenerlo. Grazie. 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 Grazie.